Difenderci e prenderci cura Sono due dimensioni O ecco, due facce forse della stessa medaglia Poi tu ben sai che io ho La visione di questa terza faccia Della moneta, della medaglia Sono un terzo aspetto ma che rivelerò poi Man mano che andrà avanti così il nostro dialogo Perché illusione, prendersi cura e la cura Sono due aspetti che possiamo portare avanti Con l'attenzione dedicata alla comunicazione Perché le parole spesso vengono interpretate O vengono definite strumenti Strumenti di comunicazione Strumenti di passaggio di informazioni Ma le parole hanno un potere Che è molto più importante Se vogliamo superiore A quello di essere strumenti di comunicazione Hanno quel potere che ci permette Di produrre la realtà Che è davvero, se ci pensiamo Un potere magico Possiamo dare forma alla realtà Attraverso le parole Della realtà stessa In questo senso, se parliamo di modifica della percezione Possiamo dire che le parole illudono Perché la modifica della percezione Delle parole Ha a che fare con il potere illusivo Se prendiamo e recuperiamo l'etimo L'etimologia della parola illudere Questa ha due dimensioni Che pescano nel significato profondo Della parola illusione Uno è l'inganno con false apparenze Il potere che possiamo esercitare con le parole Di creare una falsa apparenza Cioè di creare una falsa realtà Attraverso lo storytelling Una narrazione Non so, si usa molto il termine inglese Ma l'italiano ha un'altra potente parola Che si chiama narrazione La linguistica La scelta del lessico Sono strumenti per creare una realtà apparente L'altra dimensione è quella del prendersi gioco Così è se vi pare Per citare Shakespeare O così è se vi appare Per citare i maghi Le parole ci permettono di credere a una cosa Perché la facciamo apparire In un certo modo Ovvero se distraiamo l'attenzione Dalla realtà Verso una realtà apparente E vedi che ritorna alla dimensione magica Della comunicazione La distrazione Con la quale gli illusionisti Maneggiano la nostra attenzione La nostra capacità percettiva A seconda dell'obiettivo Che vogliono raggiungere E rendendo la realtà Molte volte anche più gradita Più gradevole O sorprendente O appunto meravigliosa Tutto ciò che comunica Tutto ciò che si comunica Attraverso il linguaggio Rende o crea un effetto E ha delle conseguenze Cioè parte da una causa Ma ottiene O ci permette di ottenere Effetti e conseguenze Pratiche Pragmatiche Reali Cioè rendere reale La realtà O rendere reale un'idea In questo senso Pensiamo quando diciamo Al dico per scherzo O dico per dire Una specie di metacomunicazione Sul fatto che stiamo avvisando Il nostro interlocutore Che attenzione Ti sto per illudere Un po' come il mago Torniamo a questo filo conduttore Che un po' ci può guidare Il mago cosa fa? Beh vi dice che vi inganna E poi lo fa davvero È in effetti il più onesto Farabutto che ci sia In circolazione Con la parola facciamo un po' Lo stesso Quando dico Guarda che lo dico per scherzare Quindi non offenderti Ti sto metacomunicando Che l'illusione Dentro il quale Ti sto portando In questo piccolo assaggio Di realtà Non è forse Tutta la realtà Ma è quella che a me interessa Farti vedere Un po' come quando I bambini giocano Nel gioco infatti Ecco l'aspetto ludico Dell'illusione L'ude Quando i bambini giocano Attraverso la comunicazione Praticano dei riti Dei ruoli Mettono in dubbio la realtà O creano una realtà Tu fai il poliziotto Io faccio il lado Tu fai la principessa Io faccio il principe adurro Attraverso questa descrizione Di una realtà Che esiste In una convenzione Tra parlanti Tra bambini giocosi Beh loro sperimentano Emozioni Limiti Si proteggono Dalle paure E provano a sperimentare Anche futuri possibili Creano una realtà Ecco l'importanza Di prendersi cura Della parola Perché più noi Riusciamo a essere Attenti Nel fornire Ad esempio Ai bambini O comunque Fornire ai nostri interlocutori Le parole Con le quali descrivere La realtà Beh più siamo O possiamo essere certi Di condividere Un mondo Di essere così parte Di questa costruzione Responsabile Di quel mondo Insomma Se noi ai bambini Diamo mattoni Paglia O cemento Loro la casa La loro realtà La realtà culturale Che si creeranno Sarà Sarà differente Questo lo dice Molto bene In altra forma E non fa l'esempio Dei mattoni Della paglia Zagrebeschi In questo libricino Faccio un po' Di pubblicità Posso Questo libro è Sulla lingua Nel tempo presente Zagrebeschi Costituzionalista Pensatore Importante Dice che Citando Beccaria Tra l'altro Dice che Dietro le parole Si affaccia Una visione Delle cose Una cultura O è il tanshango Per usare un termine Filosofico Tedesco Un punto di vista Cioè Attraverso le parole Io posso Farti Illuminare una parte Della realtà Farti vedere Solo una cosa E ritorna Il potere Anche qui Del mago Oggi Se quella parte Di realtà Noi la chiamiamo Cultura consumistica O consumeristica Ovvero la società Dei consumi Ecco che le parole Che usiamo Descrivono La realtà Ci fanno stare Dentro quella realtà Senza tanti altri Giochi di ruolo E soprattutto Le parole Che abbiamo oggi E ritorno Alla tua domanda Del come difenderci Sono parole Che molto spesso Sono state consumate Sono state consumate Nel senso Dell'utilizzo Insistente Molte volte Anche fuori luogo Che ha rovinato Che ha rovinato Forse l'origine Il significato originale Le ha consumate Non si vede neanche più La struttura Che le aveva Che le aveva generate Da usi impropri Spesso inconsapevoli Altre volte invece Purtroppo Come si dice Consapevoli Ma con dolo Quindi proprio Trasformandole Manomettendole E su questo Cito un altro libro Che è Poi se volete Vi racconto anche La storia di come è nato Questo libricino Che è Gianrico Carofiglio La manomissione Delle parole Ecco le parole Manomesse Le parole che sono state Modificate Lui Carofiglio Usa questa Visione Questa metafora Che io sposo appieno Che è La necessità di tornare Artigiani Della parola Quindi Persone che si prendono cura Eccolo qui Per contenere Il potere illusivo Dobbiamo riprenderci cura Delle parole che usiamo Dare un senso alle parole Per dare un senso Alla realtà Ai rapporti tra le persone Ai comportamenti Piccola citazione Se noi continuiamo a chiamarlo Distanza Distanza fisico La distanza fisica Scusate La distanza sociale Non ci rendiamo conto Che chiamiamo Ciò che è distanza fisica Con un universo Di relazione Che rischierà poi In futuro Di farci percepire La distanza sociale Quella reale Ad esempio Quella delle diseguaglianze Quelle delle disparità Quelli dei trattamenti Non etici Una cosa Doverosa Salvifica Da fare Invece no Stiamo confondendo i termi Ecco Quindi Un esempio contemporaneo Di un linguaggio Che illude Come possiamo agire Come dici tu Da artigiani Della parola Come potrebbe essere Rimaniamo Rimaniamo proprio Su Il linguaggio Di questa emergenza Di questa contingenza Nella quale ancora Siamo Dentro Quante volte Nei nostri Le nostre letture Nei nostri dialoghi Nei nostri ascolti Abbiamo sentito Paragonare La situazione Pandemica A una battaglia Una guerra Al linguaggio bellico La realtà Il linguaggio Che ha descritto Questa realtà È stato spesso utilizzato In modo Così Forzato Forzoso Verso il linguaggio Appunto Le espressioni Che lo descrivono Come una guerra Cito E leggo proprio Tra virgolette Alcune cose tratte Dai giornali Dai quotidiani È una guerra Siamo in guerra Prepariamoci alla guerra Oppure La trincea Degli ospedali O i sindaci In trincea Il fronte Del virus L'economia Di guerra Oppure Il bollettino Con il numero Dei morti E dei contagiati Un bollettino Come insomma Radio Londra Le armi Del virus In Lombardia Cito In Lombardia È scoppiata Una bomba atomica Che è una visione Insomma Catastrofista Sì ma Terminale Ma anche Di visione assolutamente Bellicosa Eppure Non è il termine Guerra Che descrive Al meglio Oggettivamente La realtà Che stiamo vivendo Neanche oggi Al tempo Del coronavirus Una parola Che descriverebbe Meglio E mi permetto Questa situazione È Quella Tra parentesi Usata anche Dal presidente della Repubblica Mattarella In una delle sue Comunicazioni Un'emergenza Sanitaria Sociale Ed economica La stessa realtà La possiamo descrivere Con due prospettive Diverse E se il primo Aggettivo C'è quello Dell'emergenza Sanitaria Caratterizza La condizione Oggettiva Originaria Del problema Del covid-19 Quindi del SARS Cov-2 Gli altri due Aggettivi Descrivono Quelle che sono Le complicazioni Di questa emergenza Perché se le complicazioni Sono sociali Ed economiche Stiamo Costruendo Una realtà Che già ci sta offrendo Nel linguaggio La strada Per trovare Delle soluzioni Se invece Noi riportiamo Tutto all'idea Della guerra Beh la strada Da prendere È diversa In cui Magari sotto Il tentativo Cioè l'illusione Di spiegare meglio Come funziona La realtà Alle persone Si usa una metafora Che può Apparentemente O può illuderci Di spiegare meglio La realtà Il problema è Che parimenti Si illudono anche Le persone A cause Soluzioni Che non necessariamente Sono quelle opportune Per il problema Mi spiego meglio Io potrei Accompagnare Le idee Quindi accettare In quanto cittadino In quanto vittima Di questa guerra Degli effetti collaterali Lo ha detto ben Boris Johnson Giusto? Preparatevi a perdere Preparatevi ad avere Delle vittime Da danno collaterale Del fuoco amico Durante questa guerra Oppure posso accettare Privazioni della libertà O rinunce A dei diritti Sotto L'illusione Che questo È fatto Perché In tempo di guerra Saltano completamente I codici Anche Così Civili Del nostro Ordinamento Democratico Nonché Attenzione Anche Una mitizzazione Di alcuni doveri Non è solo Diritti In questo caso Ai quali siamo Capaci di sacrificare Le nostre aspirazioni Ma anche Una mitizzazione Dei diritti Ne prendo uno Che è quello Che a me Fa un po' più Pensare Che Ad esempio Il dovere Scusate Alcuni doveri Non sono diritti Il dovere Della denuncia C'era Paventato Spero che sia Rientrato L'idea Dell'osservatore Civile O L'osservatore civico Scusa Non civile L'osservatore civico Che può Prendersi il diritto Di denunciare Ci sono dei rischi Poi di costruzione Di una realtà In cui limiti In cui confini Non è detto Che siano così ben determinati Ritornando all'esempio Del parlare di guerra Cioè Della metafora Della guerra Questa è una scorciatoia Lessicale È un utilizzo Euristico Del linguaggio Che Probabilmente Ha l'obiettivo Di cercare Di rappresentare meglio Qualcosa che facciamo Fatica a rappresentarci Ma questa rappresentazione Non è neutra Si porta con sé Delle conseguenze Ampie ai confini Che sono strettamente Legati Alla Metafora Quella del nemico Invisibile Quella del nemico Da battere Con tutte le armi Possibili O quello di Appunto Proclamare Come ha fatto Trump Uno stato di guerra Tale per cui Sospendo La democrazia E decido Anzi In quanto cittadino Posso anche sentirmi Autorizzato Psicologicamente A cercare La soluzione forte O a fare in modo Di sostenere Chi Dà una soluzione forte O chi spende Il denaro Senza troppo rendi contare Insomma Si compie un sortilegio Eccolo qui Un po' il titolo Sottotitolo Del nostro incontro Il sortilegio È presto detto Per questi Comunicatori Perché Perché in una guerra Senza quartiere Le risorse Vengono spese Senza alcuna prudenza E ce lo possiamo aspettare È una descrizione Della realtà Coerente Con l'utilizzo linguistico Non con la soluzione Del problema Sono due piani diversi C'è il piano Della realtà E il piano Della descrizione Della realtà La guerra È pura emergenza In cui nessun sacrificio Sarà considerato Eccessivo Ma questo Ce lo dice il linguaggio Non ce lo dice Il problema oggettivo Trattare una malattia Come una guerra Ci rende Appunto Obedienti Docili Ecco altri termini Che si rifanno Al linguaggio Bellico Vittime designate In qualche senso Vittime di un virus Che è una via di mezzo Tra un essere vivente E un essere non vivente Che non ha nessuna intenzione Né Voglio dire Sentimento Di Finalità Rispetto Alla sua Al suo Obiettivo Di contagio Invece Se cambiamo registro Ci spostiamo Nella necessità Di liberarci Di una malattia Di risolvere La malattia Di contenerla Di porci Appunto Un antidoto Un rimedio O in quel caso Un vaccino Ovvero Porre cure adeguate Risorse sanitarie Accessibilità Alle cure Queste sono Linguisticamente Le scelte Oggettive Cioè del piano De realtà Che sottostanno A quella che è La descrizione Linguistica Della realtà E dal punto Di vista psicologico Ma qui poi Concludo Ma è importante Rispetto alla riconquista Del lessico Il malato Non è il colpevole Non è La vittima Né tantomeno La causa In questo senso Ecco Non si può Illudere il malato Di aver pescato lui La carta sfortunata Per tornare Il mago Ti fa pescare La donna morte La donna nera Insomma La vecchia de spade Come si dice in Veneto Non è questa La logica O meglio Questa è la logica Dalla quale spostarsi Attraverso Ecco Una cura Del lessico Una riconquista Del lessico Riconquistare Un lessico Responsabile Per me Significa Lavorare Sull'antidoto Sul vaccino Linguistico Che ci protegge Dall'uso smodato Delle parole Significa Poter mettere In atto Comportamenti Più virtuosi Significa Poter Contenere I rischi Di una distorsione Del reale E soprattutto In modo inconsapevole Accettare Che il futuro Lo si stia costruendo In una direzione Solo perché Ce lo descrivono così È un po' come Uno dei primi film Di animazione Mista Roger Rabbit Io non sono cattivo È che mi descrivono così Sì Però se ti descrivono così Io non posso che vederti cattiva Jessica Rabbit Così la vedo Perché me la disegnano così Me la descrivono così Me la fanno vedere così E quindi io ho già Un suggerimento Ho già Sono già Coinvolto Nonostante me Nonostante la mia razionalità A percepire quella realtà Così come mi viene proposta Così come mi viene raccontata Così come mi viene descritta Da quelle specifiche parole E non altre Ma Max Quindi tu stai dicendo che Il linguaggio ci consente Di descrivere il presente Quello che sta avvenendo oggi Quello che è avvenuto in passato Ma anche di creare un futuro Di condizionare il futuro Sì Le parole hanno un potere Che si distribuisce su due piani temporali Ci permettono di trasformare Il presente Ovvero L'ancoraggio che noi abbiamo Degli eventi Rispetto alla nostra memoria E anche recuperare Attenzione alla memoria Revisionismo storico Punto E di progettare Naturalmente un futuro Differente Proprio attraverso La cura del linguaggio Partendo dalla cura Della comunicazione Anche lì Prendo un esempio Lo citavo Quando mi avevi invitato Questo incontro Ho detto Proviamo a raccogliere Altri elementi Di quotidianità Qualche giorno fa Alla camera La Lega Si è scagliata Contro l'intervento Di Ricciardi Il Movimento 5 Stelle Che era critico Aveva presentato Una critica Al modello Lombardo Di risoluzione Quindi di Gestione Della emergenza sanitaria Dicendo Quindi la Lega Esprimendosi così Apro le virgolette Esigiamo silenzio In nome del rispetto Delle vittime del virus È una fase Che può passare Come emozione Come descrizione Come opinione Proviamo a vederla Un po' meglio Solitamente I morti Si celebrano Con le preghiere Con le orazioni Cioè con la comunicazione Non con il silenzio Se vogliamo E non mi riferisco A una dimensione religiosa Etica Teologica Della preghiera Proprio la preghiera Come momento Di comunicazione Che mette insieme Una comunità Nei confronti Della celebrazione Della memoria Di qualcuno Che faceva parte Della comunità Però perché dico Che è l'orazione La comunicazione Che celebra In questo caso Appunto i morti La memoria Perché la comunicazione Anche dal punto di vista Psicoantropologico Ha a che fare Con la fiducia Mi spiego meglio Gli antichi Etruschi E i romani Raffiguravano La fiducia In una divinità Una etrina Il dio Fidius Al cui centro Era rappresentata Fides La fiducia E era affiancata Da veritas La verità E honor L'onore L'onore Non ha nulla di razionale È un sentimento E è il sentimento L'onor di sé Quindi che mette in gioco Se stessi Nella relazione con gli altri Attraverso La relazione comunicativa Veritas Sempre attraverso La relazione comunicativa Mette in gioco Invece la raccolta Delle informazioni veritiere Quindi della raccolta Razionale Delle informazioni Della verità Dei fatti Come si suol dire Questo ci rappresenta Il potere fiduciario Della comunicazione Interpersonale Tra le persone Allora Se lo leggiamo In quest'ottica Antropologica Simbolica L'uscita Esigiamo silenzio In nome del rispetto Delle vittime Del virus Dimostra Tutta la sua Inconsistenza comunicativa Perché È una formula Che chiede fiducia Perché Ha bisogno Di fiducia incondizionata Cioè parte Dal presupposto Che Chi la esprime Non è capace Di dimostrare Con i fatti Una fiducia Relazionale E quindi La Cela Quindi ecco Il potere illusivo Delle parole Sotto una formula magica Però Facendo cosa? Beh Facendo un cortocircuito Non da poco Il cortocircuito È tra La dimensione Del silenzio È quella Del rispetto Utilizzata Proprio per Identificare Una realtà Sulla quale Costruire In questo caso In modo manipolato Manipolatorio Con dolo Senza dolo Metteteci voi Poi ideologicamente Quella che è L'accezione O la motivazione Non mi interessa Al di là dell'intenzione Manipolando la realtà Per costruire Una realtà Quindi per definirla E in questo caso Ricostruire Se vogliamo Anche la memoria Perché? Perché se io Associo queste due parole E su queste Ci costruisco Anche lì Il simulacro Quindi proprio La costruzione Della realtà In marmo Inamovibile Da adorare Beh Quella rimarrà Nei tempi E sarà difficile Vederci che anima C'era sotto Rimane il simulacro Si perde La dimensione Etica Della comunicazione Che invece Una dimensione Propriamente Necessariamente Da recuperare Attenzione La dimensione Etica Anche lì Non ha nulla Di teologico Teleologico Filosofico Cito rapidamente Un esempio Che è un famoso Esperimento Di Loftus & Palmer Del 1974 Una serie Di ricercatori Hanno Chiesto A 45 persone Al tempo Scusa Ricercatori di psicologia Alla comunicazione Hanno chiesto Al tempo A 45 persone Di andare In una centrale Di polizia A testimoniare Su un incidente Stradale Due automobili Che avevano Cocciato All'angolo Di una strada Hanno suddiviso Il gruppo In sei Sottogruppi Perché era Un esperimento Naturalmente All'instattuto Dei testimoni Di queste 45 persone E hanno posta A tutti La stessa domanda Che cambiava Solo in un aggettivo Che adesso Vi illustro Chiedevano A ciascuno Dei testimoni Oculari Oculari Della riproduzione In filmato Dell'incidente Quindi tutti guardavano Il filmato Dell'incidente Poi una volta Visionato il filmato Gli facevano Questo Facevano loro Questa domanda A che velocità Andavano le due Autovetture Quando Sono E lì Sei aggettivi Diverse Entrate in contatto Quando si sono Come si dice Smashing Quindi si sono Urtate Quando hanno Sbattuto E quando Insomma Hanno cambiato Sei aggettivi Secondo un grado Di intensità Dello scontro Entrato in contatto Smashing Invece Scontrate Ecco A seconda Di questi Sei aggettivi Di intensità Quindi linguistica Crescente La stima Della velocità Delle automobili Andava crescendo Quindi le automobili Che erano descritte Come entrate in contatto Dicevano Stimavano Questi testimoniali oculari Andassero A una velocità Di 31,8 Miglia orarie Quelle che invece Si erano Smashing Quindi Urtate Violentemente La stima Saliva A 40,5 Miglia orarie Che cosa Significa Significa Che la descrizione Di una realtà È capace Di manipolare Una Percezione Insomma Una descrizione Linguistica Della realtà È capace Di manipolare La realtà Stessa Che io mi immagino Quindi la ricostruzione La ricostruzione È la costruzione Di una realtà Stessa Nella mia Nella mia Mente E quel che era Più interessante Anche falsificandola Aggiungendo informazioni Perché esattamente Una settimana dopo Da questa prima domanda Un po' come con L'Ispettore Colombo E 45 persone Sono state richiamate In questo setting E a tutte Hanno chiesto Vi ricordate Se c'erano Dei Dei cristalli Rotti Sull'asfalto Dopo l'incidente Le persone Che avevano Ricevuto la domanda Con smashed Quindi Urtate violentemente Dicevano di sì Ricordavano Anche i resti Dei cristalli Rotti Dell'incidente Le persone Che avevano Avuto come domanda A che velocità Sono entrate In contatto Dicevano no Non c'era Nessun vetro rotto La cosa interessante È che Realmente Non c'era Nessun vetro rotto Ma tutte le persone Alla quale era stata Descritta Una realtà Più violenta Ricordavano Elementi Caratterizzanti Una realtà Stereotipicamente Violenta Anche al di là Della raccolta Oggettiva Visiva Di elementi Appunto Che avessero In questo caso Un riscontro Reale Questo riguarda Alcuni fattori La distorsione Del mentale Del ricordo Che è Quello che io chiamo Il sortilegio Se vogliamo Noi in questo dialogo Io distorgo Mentalmente Il ricordo Perché ricostruisco Una realtà Non partendo Da elementi Oggettivi Reali Indiscutibili Ma da come Sono stati O descritti O come Sono stati Costruiti Da me Attraverso La comunicazione Attraverso Un linguaggio Attraverso Uno specifico Utilizzo Del linguaggio Posso modificare Eventi E attributi Alla realtà Attraverso Il linguaggio È quello che si chiama Misinformation Effect Quindi è L'effetto Dell'informazione Sbagliata È quello che si chiama Confabulation I falsi ricordi Tutta la teoria E le teorie che sono sviluppate Dopo anche queste Gratte Queste ricerche Sulle Inattendibilità Delle testimonianze Oculari Una delle principali Modalità Di raccolta Di testimonianze Sviluppate Nel sistema giuridico Americano Beh è partito Proprio dal fatto Che non è detto Che il mio ricordo Sia Possibile Recuperarlo Attraverso Un utilizzo Indifferente Della domanda O del linguaggio Con il quale è posta La domanda Anzi È un po' Un approccio Se vogliamo Magico Magico Laddove Come ben sappiamo La magia Non altera Le leggi fisiche Che sostengono La natura Mi permette solo Di creare Un altro ordine Nel disporle E quindi Mi fa vedere Una realtà Che non c'è Max Quindi Maghi Maghi Gli illusionisti Quindi oltre Ai professionisti Della comunicazione E del marketing Hanno ben presente Questi meccanismi E li mettono In atto Quindi Che relazione C'è tra La comunicazione E la magia Come dicevo prima Il mago È un po' Un onesto Farabutto Nel senso che Con la sua Nobile arte Smaschera Realmente Il cervello Per quel Mentitore Che è Ecco Questa è una frase Che poi a noi A noi Edoardo Molto cara Perché in neuromagia È un passaggio Chiave Sul fatto che Un po' così Come tutto lo spettacolo La conferenza Spettacolo Neuromagia Lavora sul fatto che Attraverso la comunicazione Noi creiamo Una realtà Alla quale poi Coerentemente Portiamo scelte Decisioni Valori Attribuiamo valori Ma partendo proprio Dalla definizione Della realtà stessa In un gioco Ad esempio In tanti giochi magici Ma in uno Del gioco Di illusionisti In cui io ti faccio Scegliere una carta Beh Il modo con il quale Ti faccio scegliere una carta Pensa una carta Tocca una carta Prendi una carta Scegli una carta Sono etichette verbali Che dopo aver Manipolato il matto Anzi Consegnato a te il matto Tu lo manipoli Lo mescoli Lo tagli Fai i mazzetti Lo ricomponi Passa Fai un'esperienza Alla fine di questa esperienza Ripropongo la domanda Allora tu ti ricordi Hai Hai avuto un matto Ti avevo detto Di scegliere una carta Scegliere una carta Non è Toccarla Pensarla Prenderla Vederla Sono elementi diversi Che però Possono essere manipolati Rinforzando o meno Uno o un'altra Appunto Costruzione di realtà A seconda della parola Che utilizzo Cioè della descrizione Di quella realtà Magari tu non l'avevi toccata Ma se io ti dico Scelta Toccata e scelta Per te li sovrapponi Quindi Ecco la costruzione Del falso ricordo Ecco la costruzione Dell'illusione Tramite la quale Io poi vado In Se vogliamo Confusione Nel ricordare realmente Cosa è accaduto O nel Essere convinto Di aver vissuto Veramente una realtà La ricostruzione Degli eventi Mi permette In quanto illusionista Di Se vogliamo Essere un po' più Autore Cioè essere un po' più Io guida Delle situazioni Di dove far andare Quindi Di come guidare Le scelte Dello spettatore Al di fuori Naturalmente Del Ecco Del luogo etico E rigorosamente Riconosciuto E convenuto Cioè quello del palco Degli illusionisti E Al di fuori Di questo appunto Dicevo Setting Andare nel setting Del mercato Del marketing Della comunicazione Non sempre le regole Sono così ben chiarite I sistemi manipolatori Funzionano Non è detto Che chi li subisce In questo caso Il consumatore Ne sia consapevole Ne Tanto altro Anche chi Magari Le utilizza Lo esprima O Lo utilizza In un modo più Più Così Corretto Coerente O Difendibile La cosa Però che accomuna In questo caso Comunicatori E illusionisti È il fatto che Noi Abbiamo il potere Di far Credere Veramente Che qualcosa Si è accaduto Solo attraverso Il linguaggio Che usiamo Per descrivere Quella realtà Cioè Noi possiamo Contribuire A creare Una vivida Una viva Impressione Di quello Che abbiamo Vissuto Attraverso Il ricordo Nel bene Nel male Nel male All'interno All'interno Della coppia Come del mercato Di una testimonianza Giuridica Come di una relazione Con il bambino Con la relazione Educativa Con il proprio figlio Ovvero Posso Attraverso Un linguaggio E la cura Di questo linguaggio Far credere Se vogliamo Di realizzare L'impossibile Ecco L'arte Dell'illusionismo Oppure Far credere Che sia avvenuto Qualcosa Che in realtà Non è avvenuto E di naturalmente Torniamo alla dimensione Etica Imprescindibile Visto questo Grande potere Che la comunicazione Ha Ma sicuramente Il filo conduttore È che Le parole Hanno il potere Di realizzare La realtà Cioè di renderla Reale Perché la realtà Non è reale In quanto fuori È reale Perché noi Abbiamo una relazione Con quella realtà Quindi è nel nostro Rapporto Con la realtà Che si Esaurisce Il termine Non corretto Ma che si Che abbiamo Ecco Che diamo senso A quella realtà Però qui Insomma È più filosofia Teoretica Forse Che non Comunicazione Ho capito Bene Quindi Quindi appunto Tu dicevi che Oltre che Per illudere Divertire Ed emozionare Durante uno spettacolo Le parole Possono essere utilizzate Anche proprio Per Portare A dei comportamenti Virtuosi Quindi A intervenire Pesantemente Nella vita E nelle azioni Delle persone Sì E questo è importante Sottolinearlo Perché se no L'impressione È che con la comunicazione L'utilizzo Che si può fare È solo O principalmente Manipolatorio Negativo O truffaldino Ecco Per usare Questo termine Invece no È cosa che emerge Poi Sul quale abbiamo Insisto molto Anche lì Con Edoardo In neuromagia C'è un potere Se volete Creativo Spassoso Meraviglioso Cioè che ci rende Meravigliati Di una realtà Che possiamo creare Grazie al potere Della parola Ma questo Anche lì Funziona anche In ambito Prima citavamo Le Come si chiama Le testimonianze In tribunale Anche in ambito Giuridico Tutte quelle ricerche Hanno portato A sviluppare Cura Quindi a prendersi cura Delle strategie Dei metodi Di interrogatorio Sviluppando Quelle che si chiamano Le interviste cognitive Cognitive interview Ovvero Degli strumenti Che mi permettono Di contenere Il rischio Della deformazione Della ricostruzione Del ricordo Quindi di attivare Un miglior ricordo E contenere Allo stesso modo Il minor danno Possibile Di un ricordo Non necessariamente Preciso Perfetto No? Non abbiamo Certezza Che la capacità Di recuperare un ricordo Sia davvero La fotografia Di quello che è Accaduto Possiamo invece Avere Cura Nel rispettare Alcuni costrutti Alcune dimensioni Psicologiche Che più o meno Evidenti Più o meno Consapevoli Nell'interlocutore Affinché I rischi Di una Necessaria Naturale Biologica Deformazione Tra ricostruzione Costruzione E comunicazione Del ricordo Insomma Non portino A danni Tanto maggiori Quanto Sono gravi Appunto Di conseguenze In questo caso Anche mentalmente Dobbiamo pensare Che i ricordi Sono Delle ricostruzioni Di frammenti Che noi Abbiamo messo Insieme Nella nostra Attività Di percezione Della realtà La percezione Della realtà Non è Una lettura Radiografica Di quello che accade È una selezione Una riorganizzazione È un'organizzazione Anche interna Di etichette Di ciò che accade Che sono fortemente Influenzate Dal nostro sistema Di valori Dal nostro sistema Percettivo Dalla nostra cultura E dalla modalità Con la quale Le informazioni Ci vengono Ci vengono Proposte Funziona Tramite la corteccia Obiettiva Quella visiva In modo differente Insomma Non è che abbiamo Anche biologicamente Una grande capacità Di controllo Dei nostri Ricordi Ecco che è importante In fase di codifica Della realtà Di utilizzare Quelle che L'economia comportamentale Chiama le spinte gentili Quei pungoli Che ci permettono Di orientare Forse nel modo Più opportuno Dei comportamenti Reali Eccolo qua La tecnica Del Del Nac Deve lavorare L'artigiano Delle parole L'artigiano Delle parole Cosa fa? Beh, lavora Proprio su quei pungoli Lavora su quelle Strategie Che mi permettono Di Rinforzare Nel modo più opportuno Responsabile Anche efficace Un linguaggio Una comunicazione Una descrizione Per ottenere Degli obiettivi Che siano Maggiormente Condivisibili L'idea Il riferimento E così faccio vedere Anche un altro Dei lavori E' proprio questo Nel pungolo La spinta gentile Il nudge Di Thaler Premio Nobel Per l'economia Psicologa Hanno preso un po' il vizio A Stoccolma Di dare Premio Nobel Dell'economia A degli psicologi Non so se è un bene Se è un male Beh, magari il prossimo Sei tu Max Sì, no Grazie per la stima Ti voglio bene Però vi faccio un esempio Sempre Che io faccio sempre I miei studenti Al quale sono Particolamente affezionato Anche perché deriva Appunto da una vita personale Che cos'è un pungolo E cosa Come un pungolo Può funzionare Dal punto di vista comunicativo Quando era piccola Anche adesso Mia figlia Enna Adora i gelati Quindi adorava i gelati Adora tutti i gelati Ma come tutti i genitori Noi quando i nostri figli Mangiano un gelato In età Molto Appunto Molto piccola Abbiamo un problema C'è quello di evitare Che il gelato Finisca immediatamente Per terra Addosso la maglietta Giusto Allora se noi diciamo Se io dico Io dicevo a mia figlia Guarda Non farlo cadere Non girarlo Quindi non capovolgerlo Non spalmartelo Sulla maglietta Stavo creando In modo inconsapevole Nella mia figlia Un'immagine Del gelato capovolto Del gelato per terra Del gelato spalmato Sulla maglietta Quindi in modo inconsapevole La persona che si sente Rivolgere queste parole Vuole un po' vedere L'effetto che fa Come cantava Iannaci Cosa faccio allora? Riformulo La comunicazione Cercando di ottenere Lo stesso obiettivo Stando attento Ai bisogni Di mia figlia E soprattutto Al potere Che quelle parole hanno Di costruire Un'immagine Uno schema mentale Dentro il quale Mettere in atto Le mie decisioni Quindi non ti dico Non capovolgerlo Non farlo cadere Non spalmarlo Sulla maglietta Ti dico Guarda Se tu tieni il gelato Diritto Bello diritto Puoi gustartelo Fin in fondo Senza sprecare Neanche una leccata L'immagine è Il gelato dritto Io che ho bisogno Di mangiarmelo tutto Senza piangere Perché mi è caduto Per terra E senza trovarmi Sulla maglietta Ho riformulato Il framing Si chiama Quindi la cornice Dentro la quale Ricostruire la mia realtà Seguendo i miei bisogni Di chi mangia il gelato Non del papà Che non vuole Che la maglietta Si sporchi Metti in lavatrice Il problema è un altro È risolto Ma non è quello Il problema Niente al locutore Quindi ecco che Il nagging Cioè La possibilità Di essere più curati Di prendersi cura Delle parole Ha una possibilità Di poi rivelarsi Efficace Nella curativa Della relazione Del mondo Che voglio costruire Dei valori Che voglio difendere Allora In questo caso La riformulazione Comunicativa Mi permette Di migliorare I miei comportamenti Reali Miei e quella Di miei interlocutori Costruisco Diciamo Diciamo Frame indifferente Sono più attento Quindi mi prendo Quei bisogni Del mio interlocutore Dai quali parto Per capire Qual è Il modo migliore Per comunicare Con chi ha Quei bisogni Che non necessariamente Anzi La maggior parte De volte Non sono coincidenti Con i miei Mi sforzo Di presentare Il problema In modo diverso Il gelato Sempre in piedi sta Ma se dico Non capovolgerlo Mentalmente Sono due prospettive Diverse Di soluzioni Di quel problema Quindi ecco L'attenzione Al problem setting Prima ancora Che il problem solving O il decision making Cresciamo Dall'NBA Dobbiamo risolvere il problema No Dobbiamo settare il problema In modo diverso In modo che non diventi Un problema Se io curo il linguaggio E quindi Framing Bisogni Attenzione al mio interlocutore Setting Differente Del problema E cura del linguaggio Forse ho degli strumenti A portata di mano Per Scegliere meglio Decidere meglio Magari vivere anche Un po' meglio Insomma Mi gusto il gelato Che mi fai Questo mi ricorda Se non sbaglio Fino a un po' di tempo fa Negli aerei Quando ancora andavano Davano come messaggio Quello Di Non dimenticate Gli oggetti Nelle cappelliere Hanno poi visto Che non funzionava Perché rimaneva impresso Il dimenticate gli oggetti E hanno cambiato Il messaggio Con Ricordate Oppure Fatte pure Di portare con voi Tutti Sì Cambia E io dici Ma cambia niente No no Cambia molto Cambia molto Lo sappiamo molto Nelle copie Quando diciamo Eh ma Usiamo una parola Ma io non intendevo Quello Il problema è Servirebbe un manuale Max Il prossimo Potresti scriverlo Allora Se qualcuno Ha delle domande Possono Si possono fare Si possono fare Sia scrivendo Nella chat Oppure Anche Diciamo Togliendo Il Attivando Il microfono E facendole Poi magari Rispegnendo Risalenziando Se c'è qualcuno Il chat Ho visto Un buongiorno Quindi rispondo A un buongiorno Era di Edoardo Ecco L'illusionista Che ha fatto L'illusionista Bellissimo Per chi non lo conoscesse Edoardo E' l'illusionista Il paziente Nello spettacolo Neuromagia Quindi nonché Il coautore Di Neuromagia Con il quale Abbiamo lavorato E spero Presto Torneremo Sui paichi Ci aspettano In alcuni luoghi Anzi C'è un po' di pubblicità Eh certo Come no Esatto Il Museo del risparmio Di Torino L'Università di Verona C'è l'Università La Cattolica di Milano Dove spero Che presto Torneremo A presentare Neuromagia insieme Se ci sono domande Qualsiasi domanda Non è facile Fare domande Su un tema Un tema del genere Nel senso che Io avrei una domanda Sono Francesca Buongiorno Francesca Bene Buongiorno Non posso mettere il video Perché ho pochissima connessione E mi si stacca tutto Quindi Io ho una domanda Riguardo ai cosiddetti Manipolatori Si sente tantissimo Parlare dei manipolatori Manipolatori affettivi E manipolatori Bisogna stare attenti Ma quindi Io mi sono chiesta Ascoltando anche il suo discorso Loro usano Questa tecnica Del linguaggio Immagino Oppure C'è comunque Un attacco emotivo In questo Cioè Succede qualcosa lì E come Come è che sono così bravi Perché ne ho parlato Fatalità ieri Con un'amica E quindi Mi è venuta Subito questa domanda qua Sentendo Del linguaggio Dell'illusione E una serie di cose Mi è venuta fuori Questa curiosità Sì Non so se sono stata Molto chiara Perché Spero di stima Lo capirà Dalla risposta Sarà lei a dirmi Se la risposta è fuori luogo E non avrà senso Vuol dire che Io non ho capito La sua domanda E quindi La prego poi Di farmelo notare Beh Manipolatori La prima cosa che mi viene in mente È i manipolatori occulti Di Pacca Perché è un libro storico Ecco Poi torniamo Perché sono un libro Molto caro a De Edoardo Sul quale Insomma Da qualche decennio Si ragiona Ecco Chiedo scusa Solo se riuscite C'è un microfono acceso Vediamo Il signor Caruso Che si Ecco Ecco Grazie Grazie Perfetto Solo perché se non rientra Dicevo ecco Da qualche decennio Si riflette O si è approfondito Il tema Di quali sono gli strumenti Che attraverso La manipolazione Conducono quindi In modo più agile Se vogliamo Più efficace A far compiere O far pensare Quindi in modo Pilotato E manipolato Consumatori Professionisti Insomma Noi singole persone Quando lei mi chiede Come si fanno Come fanno Sia da punto di vista Comunicativo Che emotivo L'osservazione è questa Nel modo che noi abbiamo Di recepire la realtà E di dare un senso Alla realtà I nostri sensi Procedono Anche in modo Cronologicamente Organizzato Il primo senso Che si attiva È proprio il senso Percettivo ed emotivo Cioè noi filtriamo La realtà Innanzitutto Dal punto di vista emotivo Percettivo Sensoriale Cioè ci arriva La realtà Attraverso i nostri Sette sensi Non sono cinque So che forse qualcuno Collerà un mito Ma i nostri sensi Non sono cinque Sono almeno sette E molte volte Anche un po' di più Ma su questo Cosa mai Erika Facciamo un altro Un altro incontro Volentieri Anche perché Il sesto senso So che ci appartiene Ma il settimo Mi manca Penso che in questi sette Io il sesto Non lo considero nemmeno È un altro ancora Se vogliamo lo chiamiamo ottavo Quindi arriva Dopo gli altri due Quindi ecco Ricostruiamo completamente La realtà dei nostri sensi Però Attraverso i sensi Visivo Percettivo Spaziale Arriva a noi la realtà Ma questa realtà Tramite appunto Un'attivazione sensoriale Beh Implica L'attivazione emotiva Quindi è la valutazione emotiva Della realtà Che arriva prima Di quell'attivazione razionale Che ci permette Di darci delle risposte Mentali Se vogliamo cognitive Sul che cosa stiamo vivendo Su quali sono le relazioni Causo-effetto Cioè su qual è la logica Degli eventi Che stanno Che stiamo appunto vivendo Che stanno accadendo Attorno a noi O dentro di noi Voglio dire Il fatto quindi Di attivare O di utilizzare Tecniche comunicative Che siano particolarmente abili Nel Nel rinforzare L'impatto Della parte emotiva Significa Beh Dare priorità Alla prima impressione E la prima impressione Molte volte È proprio quella che conta Quindi quella che ci attiva Poi nella lettura razionale Degli eventi Ecco perché la manipolazione emotiva È più difficile Se vogliamo poi Da gestire Perché ha già Ancorato Questa è un'altra euristica No? Cioè ha ancorato Il nostro modo di Comprendere gli eventi In una Modalità Quindi in una Via In una strada Che siamo Spesso poi Obbligati a percorrere Almeno fin quando Non ce ne rendiamo conto Fin quando Faticosamente Non la rinnegozziamo Fin quando Non la mettiamo in dubbio Ma è molto difficile Mettere in dubbio Convinzioni che abbiamo Già iniziato a costruire Schemi mentali Che abbiamo iniziato a costruire La manipolazione In questo caso Cosa fa? Ci dà una struttura Uno schema mentale Dentro il quale Dare Senso e significato Alla realtà E quindi ci sta condizionando Sul quanto si è bravi O sono bravi a farlo Beh Sì Dipende Da quanto Da quanta pratica I nostri interlocutori Hanno fatto in questa direzione E da quanto In modo robusto Producono comunicazioni Connotate In modo emotivo Molto forte Il nostro compito Sarebbe quello Di riuscire a Staccarci un po' Ma non è facile Dalla lettura emotiva Degli eventi Però Non so quindi Francesca Ecco Sì sì Moltissimo È stato veramente interessante Sì Grazie mille Grazie a lei Ma quindi Max La consapevolezza Del potere delle parole Può Anche fungere un po' Da difesa Per noi Quindi nel momento in cui Ne siamo consapevoli E dalla lettura di un giornale O dal Ad ascoltare il telegiornale Sentire che cosa ci dicono I politici Ad ascoltare Non so Il compagno La compagna O l'amico L'amica Che hanno Un comportamento Che Che ci Mette in difficoltà In quel momento La consapevolezza Della scelta delle parole Del nostro interlocutore Può Aiutarci Un po' A Prendere le distanze Dall'impatto immediato Che queste Che le parole hanno su di noi Sì Ci può aiutare Ad esempio A comprendere meglio Cosa si cela dietro Alle parole Diciamo all'inizio Le parole Non sono Mero strumento Di informazione Ma hanno un potere Che è molto più Forte Molto più profondo Molto più coinvolgente Se mia moglie Mi dice Ah ma Max Ma sono sempre io Che lavo i piatti Non mi sta dicendo Che è sempre lei Che lava i piatti Mi sta dicendo Che ad esempio Manca un supporto Al contributo Nell'attività domestica Oppure che è affaticata Per altre cose E quella cosa È Una Delle 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 Realtà visibili Dietro la quale Si nascondono Altre esigenze Altri bisogni Un po' come Il gelato di prima Quindi Riusci ad essere Più consapevoli Di che cosa Stiamo dicendo Quando comunichiamo Ma questa è una guerra Cosa significa una guerra Cioè se io mi pongo Il dubbio Di che cosa Sto veicolando Come significato profondo Nel momento in cui Utilizzo quel termine Io O il mio interlocutore Sto già facendo Un grandissimo passo In avanti Nei confronti Di una comprensione Più responsabile E consapevole Della comunicazione E della realtà Che sto descrivendo Con quella comunicazione Molte volte Questo dubbio Può cozzare Con le mie convinzioni E lì Devo allora Lavorare su Quanto sono disposto A cambiare Le mie convinzioni Rispetto al fatto Che quella realtà Magari mi piace Un po' meno E quell'aspetto Dicevamo prima Così è Se vi appare Così è Se vi appare Perché mi piace di più Altre volte Invece Magari mi permette Di scoprire Che chi Verbalmente Comunicativamente Sta dicendo qualcosa Che non Nella quale Non mi ci ritrovo Magari L'intenzione sotto Ma attenzione L'intenzione Verificata Non la critica L'intenzione Come proiezione Può rivelare Invece Una comunanza Di opinioni Di valori Di relazione Molto più Vera O Sostanziale Rispetto a quella Che è Una comunicazione Stereotipica Insomma Una comunicazione Poco curata Ecco Ecco perché è importante Prendersi cura Prendersi cura Le parole Significa in effetti Veicolare E rendere più Consapevole La comunicazione Se invece Uso le frasi fatte Ripeto Quello che mi arriva Attraverso Le tante fonti Le infinite fonti Di informazione Le quali siamo Esposti Quotidianamente Non è detto Che io stia Che io Mi stia trasformando In un autore Responsabile Delle parole Che poi uso Sono parole di altri Sono idee di altri Sono realtà di altri E questo è il problema Non necessariamente Sono le mie Chiarissimo Qualche altra domanda? Se non ci sono domande Volevo chiederti Se puoi darci un compito O meglio Un consiglio Forse Compito Una parola A proposito Un parolone Un consiglio Perché da fare Per noi a casa Noi tutti a casa In questo momento Particolare Che stiamo vivendo Proprio in relazione A tutto quello Che ci hai raccontato E quindi Come possiamo Pensare E dirci Eventualmente Delle cose O evitare Di farlo Per Vivere E diciamo Affrontare un po' L'ansia Che stiamo affrontando E che dovremo Ahimè Con la quale Dovremo convivere Per un bel po' Di tempo Beh Rimanendo Nella Nella comunicazione Nel potere Delle parole Attenzione Dove Attenzione Il potere Delle parole Ad illudere Spero che Sia emerso bene Che è anche Un'illusione positiva Cioè Se riesco a creare O ricostruire Una realtà Più opportuna Più adeguata Più anche verosimile Rispetto alla mia Relazione con il mondo Che vivo È un'illusione positiva No? Ecco Rimanendo in quest'ambito Prendo proprio il compito Perché non ci costruiamo Un dizionario personale? Voglio dire Proviamo ad annotare Quelle parole Che stanno Che si stanno arricchendo Di un significato Differente Proprio In forza In funzione Di questa contingente Una tra tutte Distanza Distanza è una cosa Che allontana Ma mai come ora Siamo stati magari Vicini a persone Che prima Erano vicine a noi Fisicamente Ma con le quali Forse neanche Molte occasioni Di scambio Di conoscenza Di approfondimento Affettivo Avevamo La distanza Potrebbe essere Un termine Sacrificio Che cosa significa Sacrificio oggi? Se io sacrifico Parte della mia libertà La sacrifico In nome di chi O per chi Quindi Che dimensione Sto dando Alla parola Sacrificio? Attenzione Scrivere un nuovo dizionario Significa Non prendere sacrificio Vado a vedere La tre cani Il garbanti O chi per lui Che cosa Mi dice Che è il sacrificio Ma che cosa Per me È il sacrificio O che cosa Per la società Nella quale sto vivendo È il sacrificio Che accezione Danno Le altre persone Al sacrificio Le altre persone Possono essere Il politico Presidente della Repubblica Conte Il farmacista sotto casa Rispetto al termine Sacrificio Quindi ricostruisco Il mio dizionario Quello che Sposa i miei valori I miei linguaggi Cioè mi prendo cura Delle mie parole Perché è il mio mondo È quello che voglio vivere La parola corpo I nostri corpi Guardali qua Io adesso sono Una massa di capelli Barba Due tiracchie All'interno di un framing Questo è il corpo Con il quale io mi relaziono A voi Non posso stringervi una mano Darvi due baci Abbracciare Mio padre E mia madre Quando li rivedrò Dopo il 3 di giugno Voglio dire Che dimensione Sta prendendo il mio corpo Oggi Nella relazione Negli altri Nello stare al mondo Guerra Un altro termine Cioè che definizioni Sto raccogliendo Rispetto al termine guerra Confine I confini Confine Poi mi piace Il gioco è Confine nel senso Quali sono i limiti Entro i quali stiamo Da due mesi e mezzo Tre vivendo Adesso un po' più ampi Ma insomma Si arriva fino al confine Della città Della regione Del non poter viaggiare Primi dicevi Quindi il confine Sto a terra Ho i piedi a terra Difficile rimetterli su un aereo Almeno in questo momento Poi confine Cioè confini Con quali obiettivi Quali sono gli obiettivi Oggi che io ho Valore Un altro termine Sul quale si potrebbe Ricostruire il proprio dizionario Molti di noi Hanno Avuto l'occasione Per me d'oro Di comprendere Qual è la gerarchia Di valori Utilizzata fino al 24 di febbraio Insomma Le date Per città O regione Cambiano un po' Ma diciamo A fine febbraio E quali valori Invece ho Poi sperimentato All'interno Della mia quotidianità Delle mie giornate Il valore Quindi l'impiego Della giornata Di dieci ore D'ora Era un valore Poi sono trovato A lavorare Un'ora A distanza Stando a casa E condividendo Riappropriarci In realtà Dici Dopo coronavirus In questo caso C'è un nuovo Spartiacque Nella nostra Esistente Quindi acquisiamo Una consapevolezza Che poi Ci aiuterà A ripartire Ma anche Andare oltre Il momento Insomma Sì Ecco Esatto Andare oltre Io poi Da proposito di vocabolario C'è una parola Che detesto Che proprio Nel mio vocabolario Segnato in rosso Che è resilienza Resilienza Sarà per il suo etimo Ma Resilienza Sono i tessuti Che riacquistano Esattamente La stessa forma Dopo essere stati Manipolati In psicologia È vero Ha un'accezione Un po' più articolata Per fortuna Però Noi non dobbiamo Tornare a come prima E sarebbe un errore Gravissimo Tornare esattamente A come avevamo prima Anche perché Forse rischeremo Di ritornare Nella stessa condizione Che ci ha portato A questo errore enorme O a questo problema enorme A questa condizione enorme Il problema è cambiare Quindi se noi Con questa consapevolezza Riusciamo a Facilitare il cambiamento Che è sempre Una cosa faticosissima Forse Non abbiamo sprecato Quest'occasione Va bene Grazie Max Allora Se non ci sono domande Ti ringraziamo tantissimo Come Sens Gallery Venice Come Ah Allora Aspetta Aspetta Che vediamo Eh sì Anna Chiara Anna Chiara Che vi manda Vi manda il link Per poter seguire Tutte le prossime Nostre Iniziative E anche dare un feedback Su questo webinar E sugli altri Quindi se volete Vi prendete nota Del link E Max Grazie E penso che Per tutti noi Sia stato Non soltanto interessante Ma un Veramente Fonte di grande Ispirazione Nel senso che Si può iniziare da subito Con questo Giochetto Giochetto Che in realtà Può avere Poi Delle conseguenze Molto più Più grosse Di quello che Si può pensare Credo Una penna È un foglio di carta Esatto Esatto Ma al che va dal cellulare Se proprio uno Non ha la penne Si Se uno è digitale Oggi siamo tutti digitali Va bene Grazie mille Max Grazie Grazie a voi Grazie a tutti Per aver ascoltato E essere stati insieme a noi E Buone cose E vedremo a vedervi Ai prossimi Spettacoli Ci contiamo Anche con Edoardo Con Edoardo Voce comune Esatto Edoardo ed io Sicuramente avremo piacere Di avervi ancora Con noi Come pubblico Per Neuromagia E per Attenzione Un paio di altri spettacoli Che stiamo insieme a Emanuele Pasqualini Parente a Chiene Producendo proprio su L'educazione Ai comportamenti Alle scelte decisionali Fantasico Grazie mille Grazie Max Grazie a tutti